L'Arezzo in casa con l'Olbia per tornare al successo, ancora 4-4-2 per Didonato, Gori, Cutolo là davanti, in mezzo ancora Tassi con Foglia, nell'Olbia in avanti c'è Ogunseye, dopo 10 secondi l'Arezzo attacca con Caso, arriva a Corrado a sinistra, Caso va per via centrali, affida a Foglia, grandestro e palla sopra la traversa, Arezzo subito pericoloso, dentro a cercare Gori sinistro! L'Arezzo spinta di Crosta, ancora Arezzo scatenato nei primi minuti, Caso prova ad andare a rientrare, il pallone per Cutolo, 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 conclusione, Crosta con la manona a lunga, poi scatta il fuorigioco, ancora un pericolo creato dall'Arezzo, vedete anche l'arbitro repace di Perugia la prima gara arbitrata con la formazione a Maranto, intanto c'è una conclusione con pallone sul fondo. Tentativo ancora di Cutolo, Borghini, Belloni, ma ancora il gioco è fermo, c'è stato un fallo dentro l'area di rigore. Si fa vedere Belloni, Belloni in aria, parte il traversone, c'è una deviazione, il gran tiro di Tassi e la palla che va fuori. Ancora Tassi qui, è una magia con cui va via molto bene, Tassi, 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 dentro per Gori sinistro, Crosta ancora in uscita, si salva ancora. Poi Caso, si accentra Caso, Gori subito il sinistro, è un gol meraviglioso, il quinto in campionato per Gabriele Gori, il quarto che segna davanti al pubblico a Maranto. E l'Arezzo sblocca dunque dopo tante occasioni, qui grande palla di Caso, ma è Gori che la trasforma in gol di prima intenzione di sinistro. Non segna mai gol banali Gori, la rosa, calcio di punizione all'improvviso, Daga, Daga, prima pagata della sua partita oggi Daga sostituisce lo squalificato Pissardo, Mastino, Vallocchia, si accentra Vallocchia, siamo nel secondo tempo, al quarto d'ora, Ugunseie e poi la conclusione di Dora Tiotto che finisce larga. Luciani per Cutolo, col sinistro, palla per Gori, Gori la controlla bene, poi la gira su Belloni, azione avvolgente nell'Arezzo, Belloni, Belloni, affida Foglia, destro di Foglia, c'è la deviazione, Cutolo, controllo, manda a sedere Mastino e poi sotto la traversa di sinistro. Gran bel gol anche questo, il quarto in campionato per Nello Cutolo al diciassettesimo del secondo tempo l'Arezzo mette al sicuro il risultato, Gara in totale controllo, Foglia, tiro, deviazione, Cutolo, la gran finta qui a vuoto completamente Mastino e poi di sinistro. Mira sotto la traversa per il 2-0 dell'Arezzo, Foglia, palla larga per Belloni, altro traversone lungo, diventa quasi un tiro e la palla è sul fondo. Insiste ora l'Olbia che prova a farsi rivedere, è entrato Parigi, giocatore a retino, qui conquista calcio di punizione, l'Arezzo l'aveva venduto all'Atalanta. Batte la rosa, è una traiettoria beffarda, sorprendendo Daga e finisce in rete, tornano i fantasmi per l'Arezzo a 7 e mezzo dalla fine. L'Olbia torna in partita in modo anche un po' imprevedibile, qui vediamo la rosa a destro, palla in rete, davvero una traiettoria beffarda che sorprende tutti. 2-1, 91esimo, l'Olbia prova con questo pallone in profondità verso Gunseglie, la rispinta di Ceccarelli. Pennington, destro, Daga, Lella! Che brivido per la porta dell'Arezzo. L'Olbia poteva clamorosamente paraggiare, finisce 2-1, i gol di scarto potevano essere anche di più nella ripresa di Donato Ammarato in campo. Ceccarelli e Rolando, l'Arezzo torna a festeggiare sotto la curva Minghelli. Domenica prossima ci sarà la trasferta di Carrara che ci dirà se l'Arezzo sia effettivamente guarito. Domenica prossima!